Perché l'ISCOS ti riguarda? L'ISCOS è un'organizzazione non governativa nata nel 1983 dall'esperienza CISL e articolata in 10 realtà regionali. Dall'83 a oggi ha realizzato circa 300 progetti in oltre 60 paesi, coinvolgendo più di 50 sindacati esteri. La cooperazione allo sviluppo è l'anima stessa e la ragion d'essere dell'ISCOS. Perché i confini di noi tutti non sono più nazionali, ma globali. Perché la difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia passa attraverso la difesa dei diritti dei lavoratori nel mondo. Perché a domande comuni occorre una risposta globale e un'azione sindacale globale. Per questi motivi oggi la cooperazione è, per tutti, un'attività su cui investire e non un costo su cui risparmiare. L'esperienza di ISCOS è di per sé stessa una dimostrazione del senso della cooperazione internazionale nel mondo contemporaneo. In luoghi come la Birmania, ad esempio, dove ISCOS ha sostenuto il popolo e il sindacato birmano nella lotta per la libertà e la democrazia. La presenza di ISCOS nel paese asiatico ci ha dato modo di conoscere e appoggiare le battaglie di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991. Oppure l'attività in Brasile, dove ha concorso alla nascita del sindacato brasiliano e ha assistito il percorso di Lula, da sindacalista a presidente del Brasile. Per questo è importante devolvere il 5 per mille all'ISCOS, per sostenere progetti concreti, capaci di estendere i diritti umani e sindacali e il lavoro dignitoso, di favorire lo sviluppo sostenibile, di rafforzare il ruolo del sindacato nella società civile per migliorare i processi di libertà e di democrazia. Ecco perché l'ISCOS ti riguarda. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!